viaggiando viaggiando ben trovati nuovo appuntamento con viaggiando ben trovati naturalmente da parte di Monica Celegato anche oggi con un nostro ospite graditissimo prima di presentarvelo vi ricordo il sito che è www.viaggiandoinradio.it allora l'abbiamo già conosciuto e lo riospitiamo con immenso piacere è Guido Maculan titolare di Paciamama Viaggi buongiorno e bentrovato Guido buongiorno a Monica e saluto gli ascoltatori grazie intanto di essere tornato perché sappiamo che questo è un periodo particolarmente intenso per te Guido quindi grazie grazie perché hai trovato lo spazio da dedicarci allora paciamama viaggi l'avevamo già presentata no è un'agenzia che è proprio specializzata nei viaggi in crociera ed è stata proprio tra le prime in italia tra l'altro con un partner molto importante no? GMSC crociere esatto proprio un nome a caso insomma che non conosce nessuno allora Guido voi organizzate davvero un sacco di crociere per tutti i gusti e di tutti i tipi ne avevamo già accennato però mi sembra mi sembra giusto rifarlo e cioè parlare del fatto che ormai la crociera non è più come una volta la crociera da grandi no? Perché io mi ricordo quando ero ragazzina dicevamo vabbè la crociera è una cosa un po' da grandi per non dire da vecchi invece adesso si è assolutamente è assolutamente cambiata la crociera sono cambiate le navi è cambiato proprio lo spirito insomma quindi Guido la crociera ormai è proprio per tutti no? Anche per le famiglie certo è la portata di tutti le famiglie soprattutto nel periodo estivo ne traggono beneficio perché i ragazzi fino a 18 anni non compiuti pagano solo le tasse d'imbarco e l'assicurazione penso che questo sia stato uno dei motivi che ha fatto spingere l'alto numero di passeggeri e beh certo insomma non mi sembra una cosa da poco no? Fino ai 18 anni insomma di solito i bambini li trattano fino a 12 invece insomma MSC crociere probabilmente si è messa una mano sulla coscienza visto anche il periodo non dei migliori allora uno dei prossimi appuntamenti è particolarmente interessante no Guido? È una crociera un po' diversa un po' particolare una crociera a bordo di MSC Opera appunto della MSC crociera varata nel 2004 e ha un itinerario un po' particolare noi lo tocchiamo partendo in pullman della nostra zona qua di Tiene con le dovute tappe per accogliere persone ai vari punti e si parte in prossimità di Amsterdam si raggiunge il porto di Amsterdam chiaramente si fa una sosta a colonia dormiamo in albergo e poi il giorno successivo allora si parte il 15 agosto il giorno successivo il 16 da colonia si va verso Amsterdam e poi ci si imbarca a bordo di MSC Opera e lì si comincia l'itinerario quindi da Amsterdam il giorno successivo c'è una giornata di navigazione quindi dedicata al relax quindi a tranquillità e poi comincia questo giro un po' suggestivo un po' particolare come dicevo si va alla Rochelle nella Manica con la possibilità varie espursioni ma citiamo la bianca isola del re quindi un po' un discorso particolare poi diciamo dalla zona del nord così della Manica si viene in Spagna quindi si rientra verso la Spagna quindi si va al caldo con Bilbao quindi molto bello molto particolare che c'è il museo del Guggenheim che molto merita di essere visto poi nel giorno successivo si va alla Corugna in Spagna con la possibilità di andare a Santiago di Compostela quindi è una cosa anche qua molto originale poi si è un'altra giornata di navigazione per poi tornare nella Manica e andare a Mont Saint Michel dove l'acqua dove c'è l'abbazia dove l'acqua si ritira come si dice in gergo giorno successivo Southampton nel Regno Unito possibilità di andare anche a Londra quindi una crociare che tocca anche Londra chiaramente tempo effettivo ci sono quattro ore per vedere i simboli della città certo possibilità di andare a Stonehenge quindi ci sono le pietre quelle un po' molto suggestive possibilità di vedere Winchester Cathedral e il giorno successivo rientro su Amsterdam lo sbarco nel caso nostro il pullman che ci aspetta e si ritorna su Colonia e poi a casa la crociare nove giorni otto notti diciamo un giorno in più della settimana più i due giorni di albergo si passa undici giorni dieci notti però è un giro un po' particolare diciamo che si va sia il callo sia un po' verso il nord ed è molto originale sì beh direi di sì e msc opera che tipo di nave è guido msc opera è una nave da 2.000 passeggeri è stata varata nel 2004 è la seconda nave proprio nuova varata da msc con lo stile msc lo stile si nota per esempio nel teatro che è proprio un vero e proprio teatro sono tavoli netti per consumazioni il bar i bar sono fuori poi l'opera anche una un'altra peculiarità che di solo di questa nave fino alle 19 c'è la pizza non stop fatta al momento da dei cuochi lì sul ponte viscina e fino alle 19 senza mai fermarsi fermarsi pizza per tutti insomma ah che meraviglia oltre a tutto il resto ecco insomma e questo c'è solo sulle opere diciamo ecco questo giusto per fare capire insomma che anche lo spirito effettivamente è cambiato quindi dal 15 al 25 agosto c'è questa crociera veramente la definirei abbastanza a 360 gradi perché c'è veramente di tutto no? sicuramente e poi ne abbiamo un'altra molto bella dal 3 al 10 di settembre Guido esattamente anche qua periodo lo sottolineo perché è il periodo prima che inizi la scuola quindi dedicato anche un po' alle famiglie sì perché è molto importante anche per noi le persone prima che inizi la scuola e appena finisce quindi da giugno a settembre queste date sono molto bersagliate da chi poi i figli che vanno a scuola è certo purtroppo è una cosa che lega non poco i genitori quindi dal 3 al 10 settembre siamo in tempo poi quindi per ritornare a scuola dove si va? questa qua è un classico diciamo noi la consideriamo una rotazione classica intanto siamo a bordo di MSC Magnifica l'ultimo gioiello della flotta MSC nave con piscina coperta questa nave è stata varata ad Hamburgo il marzo 2010 insomma già dal nome prometteva molto bene MSC Magnifica insomma indubbiamente una nave da 3.000 passeggeri ci sono altri due amiragli ancora più grandi però una delle più grandi il giro c'è l'uscita classica da Venezia quindi siamo anche molto comodi anche se noi sempre partiamo dalla nostra zona con il pullman comunque si parte dai porti Venezia la bellissima uscita che c'è quando si esce dovete pensare che il punto più alto per fotografare San Marco visto che gli elicotteri non possono sorvolare attualmente è il ponte più alto di una nave da crociera ma dai veramente? attualmente sì che meraviglia il punto più alto poi andiamo a Bari il giorno successivo che si può andare alla cattedrale il Duomo di San Nicola si può girare anche liberamente un po' a piedi il giorno successivo ancora Catacolon c'è il porticciolo c'è anche la spiaggia oppure si va ai siti storici di Olimpia dove parte la fiaccola delle Olimpiadi poi andiamo a Izmir Turchia Asiatica l'escursione consigliata è Efeso che è molto bella con i resti poi si passa a Istanbul è qua il pezzo forte della crociera un po' il tuo costa capitale passando appunto da Efeso a Istanbul si passa allo strato di Dardanelli che si cene alla sera che è molto suggestivo anche quello proprio in nave poi dopo Istanbul abbiamo una giornata di navigazione quindi è dedicata a relax si chiude di permanenza con Dubrovnik in Croazia e poi si rientra a Venezia di sabato insomma credo che anche questa quindi Grecia e Turchia insomma sia una crociera davvero bellissima allora credo che anche oggi grazie a Paciamama abbiamo parlato di due crociere davvero incredibili quindi la prima dal 15 al 25 agosto e la seconda dal 3 al 10 di settembre io volevo prima di salutare Guido ricordare anche il sito che è paciamamaviaggi.it perché lì ovviamente ci sono tutte le indicazioni molto più dettagliate di quelle che riusciamo a darvi ma purtroppo noi abbiamo sempre pochi minuti a disposizione Guido io ti ringrazio intanto però ti prego di tornare perché so che organizzerete anche dei pacia event e non vogliamo perderli esattamente degli eventi a bordo delle navi ecco che quindi sono di plus che si dà al passeggero però scopriremo più avanti esatto benissimo grazie quindi a Guido Maculan titolare di Paciamama Viaggi buona giornata Guido e quindi a presto buona giornata a te Monica e saluto agli ascoltatori grazie viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di viaggiando mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie tutte le puntate da ascoltare o rileggere viaggiando in radio.it viaggi e viaggiatori in un click viaggiando in radio.it viaggiando in radio.it viaggiando in radio.it grazie a tutti